Eccoci, buongiorno. Ben ritrovati con la rassegna stampa del canale 696. Andiamo subito a vedere insieme quali sono i titoli oggi in primo piano sui quotidiani nazionali e locali. Partiamo dalla Repubblica Nazionale. Oggi in primo piano, come del resto in questi giorni, le tensioni verso la manovra finanziaria. Il piano, giù l'Irpef con rincari dell'IVA, pensioni, tagli sopra i 4.500 euro. Arriva l'offensiva grillina contro alti dirigenti del Tesoro. Nel Mirino c'è anche il ragioniere dello Stato. La tentazione di sparigliare al Ministero del Tesoro tutte le carte. Il piano è lasciar scattare un aumento selettivo dell'IVA e con le risorse ricavate mettere mano ad una riduzione dell'Irpef o in alternativa del cuneo fiscale. Il commento di Massimo Giannini oggi su Repubblica, il piccolo Tria argine al deficit, tutti confidano nella serietà del Ministro dell'Economia. D'accordo, gliene diamo atto. Sono in piena luna di miele con il Paese, la gente crede in loro. Qualunque cosa dicano, scrive Giannini, qualunque cosa facciano o più spesso non facciano. L'ineffabile Di Maio si siede sulla poltrona dei talk show e il pubblico va in delirio. L'infrangibile Salvini cammina per Viterbo, acclamato dalla folla come Papa Francesco e persino l'insondabile Conte incassa gli applausi di una Genova in lacrime. Ma bisognerà pur spiegare agli italiani che sulla manovra la Trimurti giallo-verde sta vendendo merce contraffatta. Basta ascoltarli a una settimana dall'aggiornamento del DEF. Questo è il commento molto critico di Repubblica. E poi sulla questione ai migranti, la stretta via la protezione umanitaria e revoca della cittadinanza. Attenzione sul decreto con i 5 Stelle, il decreto che ha annunciato ieri il ministro dell'Interno Salvini. Arriva un altro caso però sulla Lega, mistero nei bilanci. 30 milioni in 5 anni evaporati senza giustificazioni. Questa era la prima pagina di Repubblica Nazionale. Andiamo a prendere la prima pagina del mattino, sempre cronaca nazionale. E anche qui manovra. Lira dei 5 Stelle al Sud. La base di Grillina è in rivolta sui blog. Di Maio lo sa, il reddito di cittadinanza non può attendere. Il Premier Conte assicura si farà. Tria in trincea sul deficit. Il tetto è all'1,8% e spuntano mini ritocchi all'IVA. La manovra economica viene eseguita con passione dal popolo grillino nel Sud Italia. Attraverso i social esplode la rabbia della base sull'adozione del reddito di cittadinanza che ancora non arriva. Di Maio lo sa, riferendosi allo scontro in atto con il ministro Tria, che sul deficit resta in tricea e parla di un tetto massimo possibile all'1,8%. Il Premier Conte intanto cerca di rassicurare da una parte e dall'altra. Cominciamo a parlare di quanto è accaduto a Napoli e in Campania ieri. Vedete la foto in primo piano. È quella del Cardinale Sepe che stringe ancora la teca con il sangue di San Gennaro. Il prodigio si è rinnovato. E poi il lotto che bacia Napoli per la cabala è uscito il 18. Per la smorfia è proprio il sangue. Il sangue di San Gennaro che è tornato a sciogliersi nel giorno della grande festa per Napoli e Napoletani. Il Cardinale Sepe durante la cerimonia ha avuto anche un malore dovuto al caldo e alla folla. Ha alzato la teca per mostrare la liquefazione. E il lotto ha premiato la Campania. E però intanto di spalla lo vedete a centropagina. Agguato a forcella in sala scommesse. Ferito un 13enne. Il ragazzino è stato colpito di striscio al volto. L'obiettivo dei killer era un pregiudicato. E ancora insomma il terrore. Gli spari nel centro di Napoli. Sono tornati, scrive il mattino, i pistoleri di forcella carichi di cocaina nel cervello e con il grilletto facile in azione nel cuore del centro storico di Napoli. Il raid di Camorra ieri sera alle 21. Un commando armato ha esploso sei colpi di pistola contro le vetrine del centro scommesse Eurobet di Piazza Calenda. Nel mirino un pregiudicato. Vetri in frantumi colpito di striscio al volto. Un ragazzino di 13 anni. E dobbiamo dire che per fortuna non è accaduto null'altro di grave. Ma ricordiamo che poco più di una settimana fa una donna, sempre a forcella, è stata ferita da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone. E poi, ancora di spalla lo sport, la Champions, la notte nera di Ronaldo, espulso e in lacrime, ride la Juventus, piange Ronaldo. Buona la prima partita bianconera in Europa. Lo strappo vincente della formazione di Allegri in casa del Valencia, 0-2, contrasta però con le lacrime calde versate dal suo fuoriclasse. Che si becca un cartellino rosso, tanto eccessivo quanto sciocco, scrive il mattino. Che nel frattempo sul Napoli dice l'autunno azzurro, la passione da ritrovare a tutti i costi, la verità è che ci manca Mertens. Usciamo dal mattino nazionale, andiamo, scendiamo in Campania, la prima pagina di Repubblica Napoli e qui vedete in primo piano proprio l'apertura del giornale dedicata all'agguato di ieri sera. Spari a forcella, ragazzo ferito, sepe, baby gang spiegate, spietate. Infatti il cardinale, ieri durante la cerimonia al Duomo per la liquefazione e il prodigio di San Gennaro ha proprio rinnovato l'appello alla città per proteggere i ragazzi dalla malavita organizzata. Vediamo. Ore 10.05, il miracolo è avvenuto. Il cardinale Crascenzio Sepe ha annunciato ai fedeli che il sangue di San Gennaro si è sciolto. La reliquia era già lo stato liquido al momento del prelievo dalla cassaforte, il ripetersi del miracolo è letto come un buon auspicio per la città di Napoli e per la Campania. Il Duomo questa mattina era gremita fino all'inverosimile e per il gran caldo il cardinale ha avvertito un lieve malore. Infatti non ha portato l'ampolla all'esterno del Duomo dove c'erano altri fedeli ad attenderlo, ma si è ritirato subito nella sua basilica. Alla celebrazione di San Gennaro hanno partecipato numerose autorità. Il sindaco Luigi De Magistris era seduto accanto al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore e il sindaco si sono ignorati per tutta la cerimonia e anche nel momento in cui il cardinale ha esortato i fedeli a scambiarsi un segno di pace. La celebrazione di San Gennaro è il momento più bello di Napoli, a cui bisogna far seguire il lavoro serio, rigoroso, ordinato, perché la realtà si cambia con la fatica, non con le chiacchiere. Da questo punto di vista San Gennaro dovrebbe ispirare alcune persone a Napoli, ha detto il presidente, entrando nel Duomo di Napoli prima dell'inizio della celebrazione. Napoli va amata come lama San Gennaro. Ciò significa che guardando la città il nostro sguardo deve andare oltre la cronaca che appare. Una continua condanna per Napoli con le cifre agliaccianti e prodotte da una violenza che coinvolge non pochi giovani e in alcuni casi come una terribile bestemmia davanti a Dio, addirittura ai bambini, ha detto l'arcivescovo Sepe durante l'omelia. La violenza, purtroppo, ha aggiunto il cardinale, cerca continuamente di avvelenare anche i pozzi delle acque pulite, di cui la città è sempre e ancora ricca. E ancora sui giovani in Campania arrivano gli studi sul lavoro, aumentano i net, quelli che non studiano né lavorano. Di che cosa stiamo parlando? Sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni che non studiano e non lavorano. In Campania sono il 38,5%, una percentuale record per l'Europa. Davanti a noi c'è solo la Sicilia con il 39,6%, dati che fanno riflettere su una situazione disastrosa e preoccupante. Qui come la Guyana, il Marocco e la Grecia. Grassi, degli industriali, ha detto, è molto grave, ci vuole una sinergia tra le parti. Intanto la Sicilia è maglia nera nell'Europa continentale, vedete, si è confermata anche nel 2017 con il dato più alto di giovani che non studiano e non lavorano. Un allarme davvero preoccupante, come abbiamo sentito, rende i giovani più vulnerabili anche alla manovalanza della criminalità organizzata. A Napoli la polemica, il convegno sull'affido condiviso, De Magistris ritira il patrocinio dopo le tante polemiche che si sono scatenate in seguito al fatto che il Comune aveva patrocinato questo convegno. Gli organizzatori minacciano di toglierci anche la Sala dei Baroni perché è arrivata una lettera di protesta di un gruppo di femministe. Il convegno nazionale è previsto a sabato al maschio angioino. Nella Sala dei Baroni si parla di affido condiviso di padri che hanno gli stessi diritti delle madri nei confronti dei figli in caso di separazione. E si è aperto il caso perché il Comune prima ha dato il patrocinio, poi lo ha ritirato a tre giorni dall'evento. Minacciano anche di toglierci la Sala, ha dichiarato Paolucci, presidente del Movimento per il mantenimento diretto che ha organizzato l'iniziativa. Ed è l'ultima battaglia che vede sulle barricate l'amministrazione De Magistris che nei mesi scorsi aveva già detto no al Bus Gender, organizzato sempre dallo stesso Movimento per la Famiglia che si è riunito intorno al Family Day. La questione dell'uguaglianza genitoriale è al centro del dibattito attuale. E intanto un'altra polemica che aveva investito il fratello del sindaco arriva via libera al progetto del fratello del sindaco, l'ok della commissione paesaggio all'ampliamento del macciapiede davanti al bistro che vede tra i soci appunto Claudio De Magistris ed è finita con tre voti a favore e due contro. Dunque il locale a Napoli del fratello del sindaco può ampliarsi anche sul marciapiede. Usciamo da Repubblica Napoli, andiamo a prendere la prima pagina del mattino di Napoli. E qui in primo piano, napoletani insultati in tv, meritate servizi di serie B. L'imprenditore Brianzolo ad Agora dice che i napoletani sono antropologicamente diversi ed è bufera. Brambilla, star dei talk show, pretendete di viaggiare gratis, De Gregorio lo denuncia. Antropologicamente i napoletani vogliono andare sui mezzi pubblici gratis, allora non fateli pagare e diamo gli servizi fatiscenti. La star del talk show, l'imprenditore Brianzolo Gianluca Brambilla, irrompe su Agora di Rai 3 che affronta il caso degli evasori dell'Eab con il video di Torre Gaveta. De Gregorio, il presidente dell'Eab collegato con la trasmissione, resta basito e annuncia lo denuncio per diffamazione aggravata dall'odio razziale perché ha insultato i napoletani. E questa davvero, insomma, chi non se l'è persa è un'altra battaglia che ci tocca combattere per difendere i napoletani e la campagna. Dema, lo Stato strangola la città, ieri dopo la cerimonia di San Gennaro il sindaco è tornato a puntare il dito contro lo Stato e contro le manovre finanziarie che non aiutano i comuni in deficit come Napoli, arriva l'attacco, ci sono ostacoli quotidiani, se per troppe giovani in fuga è una sconfitta. Il focus del mattino oggi, nuovo studio sui campi flegrei, il bradisismo segreto, così il clima e gli astri muovono la terra. Martedì notte, lo ricordiamo, ci sono state altre due scosse nei campi flegrei che hanno fatto riaccendere l'allarme in questa zona altamente sismica. Gli esperti parlano di fenomeno normale e uno studio rivela il legame tra il sollevamento del suolo e gli eventi climatici e astronomici. Andiamo a vedere all'interno, il miracolo di San Gennaro, lo Stato che strangola la città, il sindaco ieri molto duro. Il bistro di Dema, il mattino gli dedica una pagina intera, il progetto passa in commissione, arriva il parere positivo sul marciapiede, il maxi marciapiede abbiamo visto, che ospiterà il locale. Vandali all'assalto del treno Circum, giù i passeggeri, una banda di giovani in azione, danni alle porte del convoio, questo è accaduto sulla linea Sarno-Napoli, 300 persone costrette a scendere. Prendiamo la prima pagina di Salerno. La giudice resiste allo scippo, l'apertura, la presidente di sezione del tribunale è stata vittima di un giovane scippatore in moto, nella caduta si è ferita, Anna Allegro è stata aggredita in centro a Salerno e si difende, medicata all'ospedale Ruggi, era andata a comprare dei cornetti per la sua famiglia quando è finita nel mirino di un balordo che probabilmente non sapeva neanche chi fosse. Brutta disavventura per il giudice Anna Allegro a Salerno e si torna a parlare di sicurezza. Shock migranti, intanto in provincia di Salerno, una nigeriana è stata denunciata ad Auletta, ha partorito e ha nascosto il feto in un secchio, si chiama Miriam, ma il nome è di fantasia, è arrivata in Italia da circa un anno, da un mese, era nel centro migranti di Lontrano, una zona di montagna molto isolata ad Auletta. Vediamo il servizio. E' stata denunciata per infanticidi e occultamento di cadavere la donna nigeriana di 25 anni che ha partorito di nascosto un feto di circa 25 settimane, nascondendolo poi all'esterno del centro di accoglienza per migranti, dove era ospite. Il corpicino era avvolto in un telo e coperto da un secchio. E' successo la notte scorsa ad Auletta, in località Lontrano, in provincia di Salerno. La struttura ospita minori e donne. A scoprire quanto accaduto altri ospiti del centro di accoglienza che si sono insospettiti quando hanno visto la giovane accusare un malore e diverse macchie di sangue in bagno. La 25enne in un primo momento ha cercato di mascherare quanto accaduto, poi è stata portata con un'ambulanza del 118 al vicino ospedale di Polla. Lì i sanitari hanno accertato che avesse appena partorito. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ritrovato così il feto. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia che chiarirà se sia nato o morto, se la morte sia sopraggiunta in seguito. Le indagini sono coordinate dai militari della compagnia di Sala Consilina. A Auletta nei mesi scorsi si sono verificati diversi episodi di intolleranza nei confronti di migranti con la richiesta di delocalizzazione del centro di accoglienza gestito da una cooperativa sociale. Andiamo a casetta, adesso in primo piano il restyling alla Reggia, alla grande bellezza, titola il mattino. 14 milioni per i restauri già a novembre, i primi cantieri, il bis in primavera. Dai cortili alla serra c'è un programma di interventi per rinnovare completamente il gioiello borbonico. scade oggi il termine per la presentazione delle offerte, per la giudicazione degli appalti, così se verrà rispettata la tabella di marcia i cantieri saranno aperti entro la primavera del 2019. Il lotto di lavori avrà finalità quasi esclusivamente conservativa, cioè consentirà di eseguire le opere più urgenti, eliminando il degrado di alcune parti del grande palazzo e anche del parco. Ancora la cronaca a centropagina, a Caserta, la città paralizzata per ore, il ponte è diventato la trappola per il camion, è il secondo incidente purtroppo in sei mesi, a Dercole. Un autocarro scatta, no, ponte Dercole, scusate, un autocarro scatta al verde del semaforo che regola il senso alternato a pochi metri e si blocca sotto il ponte. Piovono calcinacci e grosse pietre, il cassone si incastra, l'autista tenta inutilmente la retromarcia. E' già accaduto, come ricorderete, circa un mese fa. Promessa sposa virtuale, truffa reale su Facebook, il raggiro organizzato a Disernia da tre persone di Maddaloni, incasso 10.000 euro. succede solo nei sogni, ma lui pensava di averla trovata davvero, la donna dei suoi sogni, solo che a un passo dal matrimonio, il futuro sposo internauta, ha scoperto che lei non esisteva e che i 10.000 euro versati tramite poste pay non erano stati spesi certamente per il banchetto di nozze. L'attentato, paura nella notte a Santa Maria Vico, bomba distrugge l'auto del RAS della droga, panico nella notte. L'auto era di Gennaro Morgillo, pregiudicato per droga e agli arresti domiciliari. Usciamo dalla prima di Caserta, andiamo a prendere la prima di Avellino. Oggi il mattino di Avellino torna sul cantiere fermo di Piazza Castello, conto da 8 milioni, il Comune punta ad evitare lo scontro processuale, riunione tra gli assessori, cantiere fermo, ma la società titolare dell'appalto chiede il ristoro e si cerca un'intesa, 8 milioni di euro di risarcimento. La prima audienza è già fissata per gennaio e è il risultato del caos amministrativo che ancora regna sui lavori infiniti di Piazza Castello ad Avellino. La ditta napoletana Cogepa, che a giugno aveva bloccato le opere e preannunciato la richiesta di un mega indennizzo al Comune di Avellino, ha quantificato gli importi ed è pronta a rivendicarli tutti davanti al giudice. Tutto confermato dai settori finanze e lavori pubblici di Piazza del Popolo, una vera e propria gatta da appelare, quella che l'amministrazione Foti ha lasciato all'attuale gestione comunale. Per la verità, questa è una questione che risale anche a ben prima della gestione Foti. e poi la donna che è stata colpita a martellate in centro città, proseguono le indagini della polizia, l'aggressore è libero, resta a piede libero il 57enne di Avellino, che ha colpito la sua compagna. Per l'episodio dell'altra mattina a Corsa Europa, la città è ancora sotto shock. Vediamo il servizio. È stato rimesso in libertà con una denuncia di lesioni e minacce il 57enne che ieri ha aggredito a martellate l'ex compagna lungo il centralissimo Corso Europa di Avellino. Se l'accusa è di lesioni aggravate e l'uomo, come è accaduto in questo caso, non è stato preso in flagranza di reato, l'arresto non è automatico. E la prognosi di 20 giorni per la donna non fa configurare il reato di tentato omicidio. Di certo la questione che in città ha suscitato un enorme eco è al vaglio di investigatori inquirenti per capire se sia possibile imporre altri tipi di provvedimenti nei confronti dell'uomo, come il non avvicinarsi alla donna o un obbligo di firma. Il giorno dopo, intanto, il pitone Raffaele Biancolino indimenticato bomber dell'Avellino che ha salvato la donna dall'aggressione all'esterno del suo negozio non ha dubbi, lo rifarei. Anche mille volte, con la speranza che non succede mai più una cosa del genere. La scena che ho visto è quella che dicono un po' tutti, diciamo un po' da film horror, una scena bruttissima, una persona che prende a martellate una donna diciamo che non si vede tutti i giorni. Lei era accasciata nel vicoletto, diciamo tra spinte e straccioni siamo riusciti ad arrivare qua fuori, siamo riusciti ad arrivare qua fuori più che altro per dividerli, perché non lo so se restavano dietro al vicoletto come poteva finire. È un peccato essere eroe così, ma più che altro non mi reputo un eroe perché eroi sono altri. Intanto la 37enne polacca è ricoverata in neurochirurgia all'ospedale Moscati ed è tenuta sotto osservazione. Pare ci fossero stati altri litigi e altri casi di violenza non denunciati dalla vittima. Andiamo a Benevento, Ponte San Nicola, gli atti vanno in procura, è stata disposta all'acquisizione dei documenti, si indaga sulla struttura chiusa al traffico dopo il crollo di Genova, si è insediata anche la commissione mista che gestirà le verifiche e costerà 45 mila euro, 100 mila quelli necessari per le prove sul ponte. L'autorità giudiziaria ha disposto all'acquisizione degli atti relativi a questa struttura che porta appunto il nome dello stesso autore del ponte Morandi a Genova e l'indagine punta ad appurare come mai il ponte, riaperto al transito una settimana prima di Natale dopo aver seguito i lavori resi indispensabili dall'alluvione del 15 ottobre dell'anno prima, oggi si ritrova nella condizione di essere nuovamente interdetto al traffico. E intanto Mastella ritorna sulla questione del bando periferie, vedete di spalla, il Tar rimedia la beffa, i fondi siano erogati in base ad una graduatoria delle emergenze che affliggono le città e la proposta che il sindaco ha portato in seno al direttivo del Lanci. Vediamo. Sindaci compatti a difesa dei fondi per il bando periferie, e nessuna intenzione di rinunciare agli assetti positivi che avrebbero avuto i progetti. È la posizione espressa oggi al comitato direttivo del Lanci dai primi cittadini che hanno ribadito anche in quella sede lo sgarbo istituzionale che si è consumato al governo. Presente anche il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, che chiarisce aspetteremo per l'impegno preso da Conte, ma questo non significa rassegnarsi. Le conclusioni del presidente che dice Conte ce l'ha garantito che avrebbe trovato una soluzione fino a quando diciamo c'è questa parola noi manteniamo una sospensione di giudizio. Se Conte non dovesse essere da l'impegno ci sarà una presa che la cosa di sindaci. Insomma, se il governo non dovesse mantenere gli impegni presi con i comuni, i sindaci sono pronti ad andare avanti per ottenere tutte le risorse destinate alle periferie. Non ci hanno fatto partecipare al BAN di 150 milioni per l'edilizia pubblica nella città perché non avevamo i fondi per quanto riguardava il bando periferia. Noi ci ritolgo là e là quindi noi siamo crudo e macchiati. Questo non è possibile e quindi per questo faccio l'azione legale rispetto al governo. Mando di giudizio e finisci che è. Ceredo al TAR di adito alla richiesta alla consulta di esperiore. Andiamo di nuovo a Salerno la prima pagina delle cronache di Salerno pestato a sangue in carcere l'apertura la donna ha trovato il marito in condizioni pietose mi hanno risposto che da fastidio visitato dal medico di fiducia ha un trauma facciale ed oculare temo per la sua vita arriva la denuncia dunque ancora di un caso che riguarda il carcere di Forni a Salerno provincia 30 lavoratori ora rischiando il posto il giudice del lavoro dice no al passaggio alla regione Palazzo Sant'Agostino senza soldi ma niente trasferimento e poi Parisi denuncia alunni senza assistenza l'autismo un problema l'ASL è stata diffidata in campo anche il presidente dell'ANFAS ancora la cronaca non c'era inferiore condannati complici del boss Mariniello 7 anni per Maurizio e Gatano Pellegrino 6 anni 8 mesi per Teresa Pellegrino a Castel San Giorgio minaccia e tentata estorsione alla sua ex arrestato Giordano e domani in omaggio con cronache San Matteo l'arte dell'attesa infatti mancano appunto due giorni alla grande festa per i salernitani e usciamo dai giornali di carta stampata andiamo a prendere il nostro portale di informazione regionale 8 pagine punto it cominciamo da Napoli il Napoli secco ma si consola con il dato dei tiri in porta e lo sport in primo piano il record assoluto di 10 conclusioni risale alla gestione Benitez 10 contro 10 e ancora lo sport andiamo a Benevento Benevento Salernitana verso il derby ecco il parziale della prevendita e per il derby ci saranno rinunce importanti Tuia e Costa non recuperano scelte forzate che potrebbero far rivedere qualcosa a centrocampo dunque niente di fatto Costa e Tuia non saranno della partita due difensori non sono riusciti a recuperare dai rispettivi acciacchi tempi ancora lunghi per entrambi che a questo punto non saranno disponibili nemmeno per il turno infrasettimanale col Cittadella ecco perché Bucci dovrà fare ancora una volta di necessità virtù scelte forzate con la Salernitana almeno per la retroguardia in campo quindi con la coppia Volta Biong con Sparandeo pronto in panchina ad Avellino i 107 anni di nonna Marietta truffa e usura ha chiesto il processo per 28 anche imprenditori nel mirino del sostituto procuratore Vincenzo Donofrio ci sono molte attività tra Solofra e Salerno la procura ha chiesto il processo per 28 indagati accusati a vario titolo di usura truffa e fatture false l'inchiesta si sviluppa dal 2013 al 2015 tra le contestazioni una truffa di 70.000 euro ad anni di un compratore straniero che aveva ordinato delle pelli a Solofra ma era stato ingannato i capi di abbigliamento non erano mai arrivati per gli inquirenti alcuni indagati avrebbero prestato dei soldi con l'applicazione di tassi usurai superiori al 130% annui e quindi fino a 6 volte superiori a quello applicato dalle banche tra le vittime un imprenditore Solofrano che ha raccontato di essere stato costretto a versare 10.000 euro una cifra che comprende anche gli interessi di un prestito di soli 8.900 euro 4 indagati avrebbero poi emesso delle diverse fatture per operazioni inesistenti e così saranno ora chiamati al giudizio alla sbarra tutti e 28 i presunti usurai in Irpinia e ancora andiamo su Benevento contratto a progetto non lavoro subordinato indeterminato edilizia dati shock nel Sannio 1.500 operai in meno in due anni il settore della costruzione degli edifici è al palo in due anni si parla di un'emorregia di oltre mille posti di lavoro ancora difficoltà dunque per il settore delle costruzioni nel Sannio e soprattutto per i lavoratori un settore che più di tutti attraversa la crisi in particolare dal 2012 con il cao di lavoratori imprese e la drastica riduzione delle ore pagate in cassa ed ile c'era stata negli ultimi anni una leggera ripresa in particolare nel 2017 e poi di nuovo il crollo un settore importante per l'economia sannita e torniamo sulla prima pagina anche qui donna presa a martellate vedete sarà protetta adesso dalle guardie giurate la donna che era stata colpita in centro ad Avellino infatti in ospedale al Moscati è stato intensificato il servizio di vigilanza nel reparto dove è ricoverata la 37enne aggredita a Corsa Europa per l'accaduto è indagato lo ricordiamo a piede libero l'ex convivente della donna un 57enne avellinese abbiamo visto prima il servizio anche le testimonianze di chi per fortuna ha intervenuto e ha evitato il peggio è tutto per questa rassegna stampa grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata con i programmi del canale 696 arrivederci grazie a tutti